Sentiamo ora invece la posizione di Fico. Non è possibile spacciarsi per il nuovo e poi per un governo con Alfano, con Lupi, con Lorenzin, ma di che nuovo stiamo parlando? È la presa in giro agli italiani, l'ennesima, però c'è una grande notizia che gli italiani stanno iniziando a capire. Questo è proprio una forma gattopardesca, del tutto cambi affinché nulla cambi. Questo è quello che sta facendo Renzi e noi li smaschereremo ancora una volta e ce la faremo.